quando andremo a caricare delle info da un DB magari con delle API come le gestiremo nell'albero dei component senza uno store e le mettiamo nello stato di un componente infatti adesso parliamo brevemente di dove mettere lo stato perché appunto siccome noi vogliamo mettere nello stato delle informazioni che poi sono ciò che andiamo a visualizzare nella nostra applicazione magari l'abbiamo caricata dall'esterno dobbiamo capire bene dove mettere lo stato perché poi lo stato è accessibile solamente dai componenti figli ok quindi il Redux che non facciamo nel corso più che store è una macchina stati poi è vero che magari posso memorizzare anche delle informazioni però Redux ci serve principalmente come macchina stati siccome la macchina stati della nostra applicazione è molto semplice di solito abbastanza semplice diciamo non e non abbiamo tanto tempo non riusciamo a mettere Redux quindi non possiamo neanche mettere fare questo store eccetera però abbiamo lo stato quindi lo stato perché non viene ecco lo stato è un posto dove possiamo mantenere dell'informazione che può essere modificata dal componente stesso e va bene l'abbiamo visto prima abbiamo lo use state e quindi c'era quel welcome button diciamo quindi queste slide sono un po' di riassunto ecco fate attenzione alle cose in rosso never never mai 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 modificare lo stato della variabile direttamente anche se vi funzionasse anche non è che all'esame dite ma io ho provato funziona no è sbagliato perché vi funzionerà è come la storia della callback nell'aggiornamento dello stato è sicuro che all'esame ce n'è sempre uno e non funziona ma non è che lo fate per l'esame perché è concettualmente sbagliato noi usiamo la callback fornita da React perché dobbiamo notificare React del fatto che stiamo cambiando lo stato se noi facciamo stato uguale React non fa render o se lo fa è per pura combinazione perché nel frattempo è successo qualcos'altro quindi dobbiamo seguire questa filosofia di React che è si deve usare la callback per fare la modifica dello stato anche se il valore è noto non devo calcolare la precedente eccetera ok quindi mi raccomando questo è assolutamente importante come nei componenti di tipo class che non facciamo però visto che qualcuno aveva chiesto bisogna sempre chiamarla this set state ok quindi sempre set variable col nuovo valore oppure con la funzione con la callback e ovviamente non è che nella funzione io posso scrivere stato uguale anche se la variabile è visibile è per questo che tra l'altro dicevo vabbè diamo un altro nome così non ci sbagliamo perché ok magari funziona però non è il modo di fare perché lo farà poi React cioè React prende il valore di ritorno della della callback e ci sovrascriverà lo stato quindi è inutile modificarlo oltre che non essere corretto ok di solito il cambiamento di stato è determinato da eventi asincroni noi per ora gli unici eventi asincroni che possiamo vedere sono gli eventi del DOM diciamo banalmente i click poi vabbè potremmo agganciare il mouse che si sposta piuttosto che lo scroll però diciamo la cosa più facile è il click oppure quando avremo i form il fatto che scriviamo dei nuovi caratteri nel form quando avremo un server da cui possiamo caricare dei dati ci saranno anche gli eventi di dati che arrivano dal server un altro meccanismo asincrono noi mandiamo una richiesta e prima o poi ci sarà una risposta la risposta è un evento asincrono e vedremo poi come agganciare l'event handler di solito siccome appunto vuole cambiare lo stato dovrà andare a chiamare la nostra set qualcosa come abbiamo visto negli esempi spesso implementata come arrow function come abbiamo visto ok attenzione errore comune vediamolo nel viso studio code è di scordarsi del pezzettino iniziale no set hidden false set hidden false così non va bene però così non dà errore perché dunque salva ho fatto salva sì non dà errore non è che sotto c'è scritto qualcosa c'è sempre questo warning mi dispiace però non è che c'è un problema perché questo è il codice javascript corretto qual è la differenza tra quello sotto e quello sopra a parte il false true la differenza la differenza è che quello sotto anzi scusa quello sopra è una funzione immediatamente richiamata quella sotto è una funzione passata non richiamata quindi sopra è richiamata sotto è passata ma verrà eseguita da qualcuno se qualcuno vorrà eseguirla ok quindi quella sotto è una callback che passiamo quella sopra è una chiamata a funzione che quindi viene fatta immediatamente ok non click si aspetta una callback non si aspetta il valore di ritorno di una funzione eseguita immediatamente no perché se facciamo così non funziona più si riesce a vedere dov'è adesso dobbiamo aspettare un secondo che la ricarichi spero no quindi è preso va bene allora facciamo ctrl c nel terminale ok va bene la s e la s non funziona più perché ma perché non ho una callback quindi andate a cercare c'è l'event non c'è nessuna funzione perché perché io non ho passato una funzione ho passato una callback ho passato un valore che era il valore di ritorno della set cos'era set hidden che probabilmente non ritorna alcun valore no quindi quindi non funziona mi raccomando sembra banale ma è uno degli errori più comuni ok ovviamente se siete in laboratorio ci fate vedere il codice insomma di solito ce ne accorgiamo oppure magari qualche vostro collega se ne accorge e me lo dice andate a cercare l'endel non c'è e allora ho sbagliato qualcosa nel passare l'endel ok abbiamo già detto se dobbiamo usare un valore o una callback nella set no quindi io non non starei a discutere più di tanto ecco invece veniamo a questo punto che è quello interessante possono i figli componenti figli cambiare lo stato di un componente padre perché noi abbiamo detto lo stato lo stato locale al componente e non è accessibile ad altri componenti quindi se ho una condizione in cui ho necessità di questa operazione cioè fare in modo che un componente figlio modifichi lo stato di un padre come faccio? vi faccio un esempio di questa necessità ecco che è l'altro esempio che trovate sul git quattro bottoni mutuamente esclusivi quindi uno solo di questi bottoni può essere selezionato quando ne seleziono uno sparisce la selezione dagli altri bene non posso mantenere questa informazione nel bottone stesso perché? perché quale bottone è selezionato è un'informazione del componente padre è una sola informazione nel bottone stesso posso mantenere l'informazione se questo è selezionato oppure no ma quale selezionato che è un'informazione che mi fa comodo perché non è che posso pensare tutte le volte di scorrere una lista di mille componenti per sapere qual è quello selezionato è un'informazione che devo mantenere sul componente padre però questa informazione deve essere aggiornata dal componente figlio cioè io quando premo faccio clic sul bottone lo faccio sul bottone che è il componente figlio non lo faccio su qualcosa nel componente padre no? quindi l'informazione su qual è il bottone selezionato quale potrebbe non essere nel bottone no? volendo la tengo per dire se quello è selezionato no ma quale di tutti è un'informazione del componente padre il gruppo di bottoni sarebbe il componente padre e quindi come faccio se lo stato è del componente padre bene posso adottare una soluzione di questo tipo no? allora io ho la mia app faccio il mio componente button group che non visualizzerà bottoni avrà dei figli che visualizzano dei bottoni quindi avrà n figli 1,2,3 eccetera i simple button e il componente padre button group avrà uno stato no? uguale qui me l'ha chiamato così selected uguale il numero del bottone 1,2,3,4 eccetera il nome vabbè insomma decidiamo cosa mettere o il nome o il numero e poi e poi il componente padre decide come creare i componenti figli cioè i vari bottoni e anche sulla base dello stato dirà al singolo bottone figlio se è selezionato oppure no con come? con delle properties con delle props quindi qui decidiamo di avere dei componenti figli simple button a cui passiamo tre tre properties un nome giusto perché lo vogliamo fare flessibile non fisso quindi da un array nome indice 1,2,3,4 eccetera perché vogliamo gestire gli indici e non i nomi un po' più per maggior comodità e poi diciamo se è selezionato o no e quindi verrà visualizzato colorato oppure no quindi azzurro oppure grigio ok quindi questo è lo schema dell'applicazione noi in mente dobbiamo sempre avere lo schema della nostra applicazione come sono organizzati i componenti in quale componente andare a mantenere lo stato in quale o quali che possono essere stati anche in diverse parti della nostra applicazione e poi dovrò trovare un modo per far sì che quando si verifica l'evento sul componente del bottone uno dei componenti figli sono in grado di modificare questo stato come faccio allora gestisco un click va bene un click quindi il button group deve offrire un metodo per cambiare l'opzione selezionata cioè quel selected che è lo stato che ho deciso che sia lo stato nel mio button group e quindi qualcuno deve andare a chiamare il set selected nel componente button group qual è il modo più semplice per realizzare questa cosa è di passare un riferimento ad un metodo che è in grado di fare questa operazione giù nei componenti figli come ulteriore proprietà quindi in più ci mettiamo props choose che è un riferimento ad una funzione come passo i boolean i numeri le stringhe gli oggetti eccetera posso passare anche riferimenti a delle funzioni come properties e quando lo faccio tipicamente proprio in questi casi in cui devo rendere accessibile un metodo di un componente ai componenti figli quindi io nel mio componente button group avrò choose button uguale una funzione che prende come parametro una cosa che decido io in questo caso l'index ho fatto l'index per comodità set selected index perché ho deciso che lo stato nello stato mantengo un indice potevo mantenere il nome se il nome fosse unico fa lo stesso basta che decido che cosa fare e poi nell'on click dei vari simple button o meglio dei button se poi l'implemento come button on click una callback che va a chiamare la choose button che per il figlio è la props choose perché se io la passo in questa maniera dal figlio è accessibile come props punto choose è ovviamente una funzione quindi posso aprire la parentesi tonda e passare quello che voglio quindi props index ok quindi mi raccomando questa è la struttura dell'applicazione abbiamo complicato un po' rispetto a prima adesso abbiamo uno stato nel componente padre e abbiamo passato un metodo quindi una funzione ai componenti figli per far sì che questi componenti figli siano in grado di modificare lo stato nel componente padre la modifica dello stato nel componente padre scatena il render del componente padre e di tutti i componenti figli per i quali cambiano le props però a questo ci pensa React noi non dobbiamo fare nulla per questo fa tutto React ok quindi visto che l'ultima slide così poi stiamo solo più su Visual Studio Code consigli cerchiamo di creare componenti di tipo stateless cioè senza stato il più possibile perché è più semplice più semplice da gestire da scrivere il codice da mantenere eccetera sono più riutilizzabili sono più veloci eccetera eccetera lo stato nell'applicazione bisogna poi valutare dove metterlo siccome lo stato è accessibile dai figli solo tramite questo meccanismo di passare una funzione che modifica lo stato stesso tramite le props vuol dire che lo stato deve sempre andare su nel componente comune a tutti i figli che lo devono modificare cosiddetto state lifting sollevamento dello stato adesso torniamo sulla choose button quindi lo stato eventualmente può essere passato ai figli usando le props però sarà non modificabile a meno che non passiamo anche un riferimento ad una funzione che è in grado di modificarlo quindi una callback che è in grado di modificarlo vediamo il choose button che ci chiedono su slack quindi il choose button è una funzione che abbiamo definito all'interno del nostro componente di tipo function button group che va a chiamare la set selected quindi quel metodo che ci modifica lo stato del componente button group noi possiamo passarla come valore delle properties dei componenti quando creiamo i componenti andiamo a vedere il codice perché qui c'è solo il pezzettino e non c'è tutto e quindi diventa difficile ragionare in maniera astratta quindi andiamo a aprire folder game buttons quindi ho buttato via tutto il vecchio che in realtà trovate già sul github ho aperto il game button quindi questo è app che stavolta è più semplice perché abbiamo ok non trovavo dove fosse stata dichiarata adesso la troviamo e qui abbiamo diviso in files quindi l'esempio di prima era molto facile perché non divideva in altri files js qui li abbiamo divisi quindi il button group l'abbiamo fatto noi button group da importare in questa maniera senza scrivere .js perché in src non ne abbiamo bisogno il button group è questo quindi vediamo il codice button group props quindi ci sarà beh qui hanno messo select si poteva fare anche cost fa niente select set selected use state a cui tra l'altro possiamo anche passare un valore qualsiasi non deve essere per forza 1 2 3 4 eccetera se per noi per la nostra applicazione va bene un altro valore possiamo mettere qualsiasi valore incluso undefined null eccetera qui hanno scelto di mettere undefined quindi non ci sarà un bottone selezionato all'inizio e poi c'è quella callback che vedevamo sulle slide choose button index set selected index che passiamo come property di simple button no? che ha una certa serie di properties alcune sono quelle che abbiamo visto sulle slide quindi name index selected e poi choose per passare questa choose button e in più abbiamo bisogno della key perché come dicevamo l'altra volta è una lista va bene ma questo diciamo è secondario in questo momento il simple button cosa fa? il simple button prende le props come tutti i componenti tipo function if prop selected io faccio un button questo è il button boostrap react boostrap variante danger nel senso che lo coloro la variant mi serve a colorarlo fare in modo che appaia selezionato props name è il nome quello che scrive in mezzo al bottone nel testo del bottone se è selezionato non ho bisogno di event handler perché perché tanto non è che ci riclicco so se devo selezionare qualcos'altro devo cliccare su un altro bottone se non è selezionato allora button col suo name on click un handler un handler che quindi è una funzione per cui dovete per forza iniziare con parentesi freccia potrebbe essere parentesi event ma se l'evento non lo usiamo possiamo anche non metterlo props choose perché qualcuno ci ha passato come props questa choose e gli diamo l'index per dire di qual è il bottone selezionato perché se no abbiamo quattro componenti simple button e non dobbiamo in qualche maniera distinguerli se no noti che faccio choose e non so dire di quale quindi il choose è in button group è quello che è stata passata proviamolo ah sì ho modificato ma alla fine non c'è niente di particolare quindi terminale ovviamente anche su questo progetto io ho già fatto npm insta se volete lo rifacciamo tanto non è che capiti niente no almeno spero di averlo già fatto comunque se lo rifate non non succede non succede nulla ok intanto rispondo alla domanda solo per curiosità segnare a choose semplicemente set state sarebbe stato sbagliato no dovrebbe funzionare dovrebbe funzionare poi proviamo non è sbagliato però diciamo che come dire nel momento in cui voglio fare magari un'operazione un po' più complicata e non solo set set qualcosa mi viene comodo avere il mio handler in cui posso andare a modificare appunto il wrapper in cui posso andare a scrivere qualcos'altro no se invece passo direttamente la set state e poi se devo cambiare qualcosa vabbè aggiungo il wrapper e passerò in wrapper però è abbastanza indifferente dipende un po' da quanto voglio essere come dire da come voglio organizzare il codice quindi npm install va bene e se se lo fate da cartella vuota cioè senza il node modo ci metterà un po' di più però poi alla fine facciamo start ok partirà il browser si ok chiudiamo la vecchia abbiamo bisogno sempre di aspettare che Babel faccia tutte le operazioni su gsx eccetera che poi si mantiene in memoria quindi a volte dopo un po' più rapido però è tutto fatto automaticamente qui ai miei components quindi questo è l'albero app un container questo è il container di react bootstrap va bene non lasciamo perdere cosa fa react bootstrap perché non ci interessa button group è il nostro e poi ci sono i simple button quindi su button group ho il mio stato che inizialmente come vedete è undefined e quindi non nessun bottone sarà selezionato adesso clicco su un bottone blackjack che è il 2 button nome dove è andato ah no simple button blackjack poi sotto il button è quello di bootstrap name è la property che io passo blackjack index 2 choose come vedete vedete una funzione f e selected false io adesso premo sopra e lui diventa variant danger no quindi me l'ha colorato quindi il simple button avrà variant danger che prima non c'era ed è selected true perché così me l'ha creato il container no scusate il button group container di bootstrap button group no perché in button group adesso lo stato vale 2 e non è più undefined se io ne seleziono un altro cambierà lo stato 3 1 2 eccetera ok chi lo cambia la cambia la callback chiamata dal bottone figlio ok quindi nel codice nel codice il button group ecco andiamo a dare un'occhiata a questa che è un po' forse il pezzettino di codice più difficile cosa ho fatto un prop names quindi una prop di button group quindi in app qualcuno mi ha passato un names che è un array un array di stringhe quindi torno nel mio button group ho un array di stringhe su un array faccio map faccio map cosa fa la map la map prende una callback la callback prende come primo parametro l'elemento sul quale voglio lavorare sull'array come secondo l'indice e in questo caso mi serve l'indice perché così metto 0 1 2 3 sui bottoni mi serve anche il secondo parametro cosa restituisce la callback della map questa è la callback della map restituisce un jsx simple button sapete la map restituisce un nuovo array e quindi come risultato di tutta questa operazione avrò un array di componenti componenti di tipo simple button a cui metto le props che voglio io name name che è il parametro della callback key index perché devo dare questa key altrimenti poi react e protesta diventa inefficiente nel suo algoritmo di reconciliation del virtual DOM comunque diciamo nelle liste devo sempre avere una chiave unica per la lista l'abbiamo detto l'altra volta index e l'index di nuovo parametro della callback selected e lo decido io un boolean se index è uguale a selected e selected è lo stato cioè questa variabile e questa variabile questo selected questo è il nome della props che uso sul componente figlio questa è la variabile che è lo stato del componente e poi c'è il choose button che come dicevamo l'abbiamo visto sulle slide è quella funzione e volendo potevo potevo probabilmente scrive set selected giusto per curiosità visto che qualcuno l'ha chiesto facciamo la prova choose button vabbè choose button non è usata va bene perché l'abbiamo cambiata proviamo si continua a funzionare quindi volendo possiamo mettere anche il il choose il set selected direttamente c'è una domanda che diceva quindi ad ogni cambio di stato viene reindirizzato tutto il button group rirenderizzato tutto il button group e non solo il singolo bottone giusto 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 lo stato sta sul button group e quindi il button group viene rirenderizzato cambiano le properties dei componenti figli poi questo aspetto un po' diciamo se i componenti vengono ricreati per forza vengono rirenderizzati se i componenti fossero quelli di prima se sono cambiati le props vengono rirenderizzati però questo ha a che fare col ciclo di vita i componenti comunque diciamo tutto ciò che sotto button group react in qualche maniera lo aggiorna se è necessario ok se noi nell'if caso true avessimo messo in mente anche l'evento onclick un click su un bottone già selezionato avrebbe scatenato un rirendering o non cambiando lo stato non sarebbe successo nulla questo questo bisognerebbe chiederlo a react cioè diceva il nostro collega se noi avessimo messo sul variant danger onclick cioè quindi scritto così e dunque cosa c'è che non va ah mi è spartita una graffa ok se il vostro collega dice se io faccio un prop cioè quindi l'asset dello stato sul button group con lo stesso stato onestamente non so dirvi se react vado a fare comunque l'aggiornamento o no di per sé non dovrebbe non ne ha necessità però deve essere in grado di rilevare che lo stato non è cambiato non so se faccia questo controllo anche perché adesso questo è un caso particolarmente semplice in cui abbiamo un numero quindi è facile da confrontare ma se c'è un oggetto può diventare difficile no quindi probabilmente però dico probabilmente non sono sicuro react tutte le volte che chiamiamola set nella variabile con un hook lui rifà l'aggiornamento poi il virtual dome si accorgerà che non è cambiato niente e nel browser non viene aggiornato nulla però penso che rifaccia l'aggiornamento perlomeno andando a confrontare i due virtual dome comunque questo è una è giusto nel senso che chi è più avanti ovviamente si pone queste domande anche solo per curiosità però è giusto appunto bisogna un attimo vedere che cosa che cosa fare acta al suo interno perché di solito quando chiamiamo la set qualcosa è perché abbiamo cambiato qualcosa e quindi diciamo ragionevolmente vogliamo modificare la visualizzazione ok direi che in questo momento non ci sono altre domande quindi proviamo proviamo andare a fare qualcosa per conto nostro quindi come poi dovrete andare a fare un po' nel laboratorio adesso avete messo insieme nel primo laboratorio una prima visualizzazione e poi cominciamo a fare dei componenti e potenzialmente andare a mettere uno stato nel componente uno stato che nel vostro laboratorio in quello che andiamo a fare adesso può anche semplicemente essere il dato da visualizzare perché come dicevamo prima sulle domande che ci sono state fatte ad un certo punto avremo dei dati caricati dovremo metterli da qualche parte e questa qualche parte non può che essere lo stato di un qualche componente non abbiamo il meccanismo di caricamento del server e quindi per ora saranno dati fissi come abbiamo fatto qui qui ci siamo fatti un array magari un array di oggetti non un array di sting ma sono dati fissi e bisogna avere un po' di pazienza ok quindi andiamo a caricare un esempio che vi metterò poi a disposizione tra l'altro è già in parte a disposizione perché in realtà non lo rubo ma insomma lo prendo da da quello che fa il mio collega nel corso in italiano ci siamo messi d'accordo prima quindi c'è c'è questo react scores e adesso andiamo a vederlo e lo modifichiamo poi però io vi faccio un commit separato con quello che ho fatto io e lui farà il suo commit con quello che ha fatto lui però se volete andarvelo a cercare c'è già è già qui scores inteso come voti quindi ci facciamo una tabellina dei voti io vado a caricare questo progetto che ho preparato salmi imprevisti sì react scores diciamo questo si chiama starter è la versione base senza lo stato cosa c'è dentro dunque questa è la solita storia npx create react app poi dunque qui mi sembra che ci siano anche ad un certo punto c'è stato anche bisogno di avere il ah no non c'è non c'è ancora c'era volevamo avere il dayjs per gestire le date eccetera quindi dobbiamo farci npm install dayjs eccetera npm install e basta per caricare tutti i pacchetti di react e partiamo da una cosa di base come questa che fondamentalmente dovrebbe essere l'equivalente del vostro laboratorio 1 no del big lab 1a diciamo la a il primo dei 4 cioè una tabella e basta niente di particolare no una tabella con i voti fissa no i dati sono già qui fissi quindi andiamo semplicemente a lanciarla per fare una prova new terminal npm start install è già stato fatto start bisogna avere un po' di pazienza poi parte c'è tutta la questione jsx eccetera eccetera però poi diventa rapido e react ecco ci visualizza il jsx corrispondente che in questo momento è fisso quindi fondamentalmente abbiamo un app container row call row va bene sono state fatte due row di bootstrap e basta quindi non c'è niente di particolare non c'è stato non c'è niente perché appunto in bootstrap cioè se c'è qualcosa sono fatti suoi a noi non interessa una normalissima tabella niente di particolare sono delle icone ma in questo momento non posso cliccare io provo a cliccare ma non succede nulla ok cosa vogliamo fare dunque vogliamo rendere il tutto un po' più dinamico vogliamo prima di tutto fare in modo che il contenuto non sia statico ma dinamico quindi caricato da un array un po' come prima per i bottoni i bottoni avevano un array con i nomi dei bottoni e i componenti dei bottoni venivano creati da questi array quindi io mi faccio un po' di copy and call adesso e diciamo mi scrivo i dati che voglio che un giorno in futuro saranno caricati dal server ma per ora non sono caricati dal server e quindi sono due costanti che io adesso vi incollo qui che sono ecco sono due array fake exam fake courses quindi questi sono gli esami codice del corso score voto data dayjs va bene allora adesso dovremo poi importare installare dayjs e poi questa è la lista dei codici del corso no? quei nomi e abbiamo complicato un po' la cosa per non avere un solo array ne abbiamo due ma non fa niente insomma potremmo anche farlo solo con i codici senza i nomi o mettere i nomi direttamente qui insomma non è quello il problema abbiamo inserito due valori fissi che in questo momento sono lì solo per comodità perché li caricheremmo dal server no? però adesso non sappiamo come fare quindi se serviamo succede che mi dirà anzi sopra succede che non sa cos'è dayjs abbiamo salvato perché non protesta fermiamo facciamo ripartire sa che qualcuno già è giusto per farvi vedere come accorgervi degli eventuali problemi ecco va bene quindi dovrebbe spuntarci anche fuori qua dayjs not that defined va bene e facciamo l'import no? quindi import dayjs from questi sono i moduli no? abbiamo fatto quelle quattro parole sui moduli proprio li usiamo vedrete che è abbastanza semplice no? e poi a un certo punto facciamo anche qualche slide e seguiamo un po' diciamo qualcosa di un po' più strutturato sui moduli però diciamo nel momento in cui i moduli sono già fatti ecco scusate dobbiamo anche installarlo ovviamente npm install dayjs se sono già fatti basta importarli con il nome e se sono nostri file invece dobbiamo importarli con un percorso quindi i nostri punto barra va bene adesso ce li installa e quindi potremmo vedere quello che vedevamo prima perché abbiamo solo risolto il problema del dayjs vediamo un attimo ragioniamo un attimo su come organizzare il contenuto noi abbiamo la tabella questa è la tabella bootstrap in questo momento che ha tutto il suo contenuto che componenti facciamo la prima cosa che ci dobbiamo start la prima cosa che ci dobbiamo chiedere che componenti facciamo cioè come organizziamo la nostra applicazione cioè dobbiamo avere in testa uno schema di come vogliamo organizzare la nostra applicazione stessa cosa di prima non è cambiato niente solo due variabili in più nel codice il dayjs quindi devo farmi uno schema di questo tipo se non ci riesco nella testa prendo un pezzo di carta lo faccio sul pezzo di carta dunque io ho in questo momento dei dati da visualizzare cioè vorrei visualizzare questi dati quindi ho una tabella con un header e delle righe le righe che sono il dato sono dei candidati ottimali per creare un componente componente esame o dunque come è chiamato voto esame exam scores voto esame perché è un po' come nella programmazione normale questa cosa si ripete la utilizziamo più volte in una programmazione normale diventa una funzione in react in un'applicazione web diventa un componente ciò che ricicliamo diventa un componente per forza quindi andiamo a creare questo componente ragioniamo su che cosa deve prendere in ingresso il componente su che cosa deve fare quindi come sulle slide siamo in questo diagramma che cosa prende quindi che props prende queste sono le props del componente per noi potrebbe essere la appunto voto esame che props prende e poi che cosa deve fare e faremo una semplice cosa che è quella più semplice da fare cioè andare a far funzionare il bottone di cancella non abbiamo un inserimento perché ci serve un informe diventa complicato però il cancella è facile da fare basta far sparire qualcosa ok allora quindi creiamo facciamolo con un nuovo file e così ci abituiamo quindi qui facciamo nuovo file e lo chiamiamo fatemi solo giusto per non farvi perdere tempo seguo una traccia che abbiamo exam components exam components .js ovviamente un js che scriviamo codice javascript ecco c'è una domanda sarebbe possibile definire le variabili statiche fake exam e fake scores in un file separato che non sia app.js perché ci avevo provato durante il lab e non mi sembrava così immediato sì ma possiamo nel senso che fake data diciamo così allora quindi facciamo un nuovo file fake fake data js proviamo allora app.js quindi ovviamente dobbiamo farci l'import dei js quindi fake data quindi abbiamo import i js fake exam fake courses e poi dobbiamo fare export dunque come vediamo solo export dobbiamo farlo con questa sintassi se non ricordo male fake exam fake non può fare il default se no deve esportare un unico oggetto dunque mi sembra sia così e poi in app dovremmo fare facciamo che buttare via tanto poi ci facciamo import dobbiamo dare due nomi quindi fake data forse se mettiamo direttamente fake fake data dunque fake data dovrebbe bastare vediamo giusto perché così vediamo se ce lo suggerisce no ah sì ecco bravo fake data fake courses adesso se compiliamo speriamo che funzioni digest define never used perché in realtà l'abbiamo usato dentro fake data e fake courses ok però dovrebbe funzionare quindi questo è il modo di fare il default lo usiamo che però qui non abbiamo ah beh ce l'abbiamo in fondo che l'ha già scritto default lo possiamo usare solamente quando ne abbiamo una da esportare se dobbiamo esportare più cose dobbiamo nominarle ok e adesso non sono usate ma piano piano le usiamo quindi stavamo ragionando sul componente no abbiamo detto vogliamo creare un componente e creiamo questo componente e diciamo che ci facciamo il un componente dunque da cosa da cosa partiamo dalla cosa più semplice diciamo la la si facciamo la row quindi diciamo che ci facciamo un componente allora scrivo così a bozzo no un exam row e poi diciamo ci metto dentro i dati e controllo exam mettiamo row control scusate copio un po' ma più che altro per evitare di farvi perdere tempo che magari poi faccio qualche errore di match dei nomi e finisce che non che perdiamo tempo solo a cercare di capire una cosa banale quindi una row un componente che suddivido ulteriormente che quindi avrà due figli un i dati i dati e i controlli i controlli i bottoncini e i dati sono i dati che visualizziamo ok dunque sì abbiamo ancora una mezz'ora ma abbiamo solo più questo da fare quindi allora come faccio a fare un componente no e poi vabbè posso fare il componente exam table exam table in cui mi sembra sia exam table sì in cui metto dentro i miei le mie righe no quindi exam table avrà uno o più eh uno o più uno o più uno o più row row control ok proviamo a scrivere i componenti cominciamo dal più eh non so se è più semplice comunque cominciamo da uno dal più interno da uno dei più interni perché poi quelli sopra dipendono da quello che si aspetta come properties e quello dentro no quindi come facciamo abbiamo solo i componenti tipo function quindi scriviamo function no function exam row ok props ok eh cosa si aspetta eh cioè cosa deve fare l'exam rows l'exam anzi eh si row non rows niente fa return ok cosa fa un componente tipo funzione fa return se non hai nient'altro da fare più che return facciamo tr no la riga della tabella tr e poi e poi dentro ci mettiamo i componenti no quindi andiamo a capo exam exam row data e poi e poi ci metteremo row control no ok e penseremo poi alle properties e adesso però non sappiamo che come la connessione internet è unstable mi sentite siamo sempre collegati sì sì ok sono collegato col cavo con la fibra con tutto il possibile per farla stabile ma ogni tanto c'è sempre qualcosa che può succedere allora facciamo prima ah ok facciamo prima i componenti più interni vi dicevo no perché perché è la cosa più più semplice no perché poi i componenti più esterni dipendono da quelli più interni poi se ci siamo sbagliati possiamo ancora spezzettare eccetera come quando scriviamo del codice function exam row data no props e cosa mettiamo return dobbiamo mettere una serie fatemi un po' sbagliare così vediamo cosa cosa succede eh una serie di campi no che sono diciamo props props exam name props props exam score ecco qui devo decidere se voglio single properties una proprietà oggetto in cui metto dentro altri valori fatemi fare questa cosa così vediamo un po' di cose varie td props props exam date no date che tra l'altro siccome poi è un dayjs facciamo poi il format e lo rappresentiamo in una maniera decente quindi sembra td qui ho scritto così ok cosa faccio punte virgola allora aspetta dove punte virgola perché non funziona cosa c'è che non va allora c'è che non va allora numero uno non va questa cosa fateci attenzione non va che return a capo non funziona perché return a capo è come scrivere return punte virgola perché dopo return javascript va a capo questa cosa vi fa almeno a me le prime volte anni fa mi ha fatto sempre dar fastidio e non si capisce cosa c'è che non va perché la funzione è già ritorna e non c'è nient'altro da scrivere sotto quindi per questo che ce lo sei poi è vero quello che dice il vostro collega su slack ci serve il componente radice deve essere uno solo e non può essere ovviamente un tr perché il tr è a livello sopra abbiamo altra roba parentesi dopo return sì qualcosa dobbiamo scrivere dobbiamo scrivere dopo return però prima mettiamo il componente quando non sappiamo cosa mettere per fare un unico componente mettiamo il react fragment ok quindi diciamo che qui serviva la graffa chiusa abbiamo sistemato questa questione ma vedete che è grigetto cioè più pallido del resto del codice perché? perché return o ci mettiamo come dice il vostro collega una parentesi questo è un modo vedete che abbiamo risolto oppure possiamo semplicemente mettere il primo sopra fa lo stesso l'importante è che ci sia qualcosa dopo return sulla stessa linea perché se no javascript mette punto e virgola e la funzione è finita ma questa è una questione javascript ok diciamo che abbiamo tre campi quindi nome scora il voto e la data e poi avevamo i control no? function quindi facciamo spazio function row control il nome l'abbiamo scritto sopra props e return allora stavolta non mi faccio più fregare metto direttamente il td tanto qui ce n'è uno solo dentro il td ci scrivo ci metto le due iconine no? qui diciamo io abbrevio un po' appunto copiando diciamo dall'esempio che ho perché abbiamo un tempo limitato però voi potete non so cominciare a mettere due link poi le aggiustate come iconine non c'è bisogno di iniziare per forza con la cosa giusta no? qui abbiamo icon edit icon delete che però allora dobbiamo importare no? quindi in cima al file io vado a importarmene icons non è nient'altro che due costanti con l'swg prendete quelle di bootstrap prendete queste scrivetelo voi non fa niente l'approccio un componente un file non va seguito non è obbligatorio adesso se le slide dicevano così mi sa che abbiamo un po' esagerato lo correggiamo spero che non dicessero così non mi sembra di averlo visto ma non ci scommetterei no soprattutto se i componenti sono piccoli io direi di no nel senso che se in un'applicazione finisce che ci sono come per l'esame probabilmente avrete non so una dozzina di componenti almeno ma alcuni sono semplici no? come questi diciamo i componenti che ha senso che stiano insieme come questi che so della tabella si possono mettere nello stesso file poi li possiamo esportare ecco tra l'altro ecco una cosa che potremmo fare potremmo già scriverlo in fondo vabbè non sappiamo cosa esportare diciamo che a livello superiore ci basta esportarne uno quindi per ora se vogliamo fare la table esportiamo dopo la table perché in app scrivo poi solo il componente table il componente table che crea gli altri ok quindi qui cosa abbiamo scritto icon edit icon delete dentro dentro dunque l'edit non è cliccabile quindi non c'è niente da discutere no? e poi ho messo uno span per rendere cliccabile l'svg no? e quindi ho agganciato un evento un click sullo span con una callback no? l'evento dentro non mi serve quindi posso lasciare le parentesi vuote e cosa faccio? avrò un delete exam no? che adesso non è implementato è una cosa che però si aspetterà come props questo row control quindi qui row control diciamo che ad un certo punto avrà in dove è andata row control giusto per non farvi perdere tempo ma tanto qualche sbaglio lo farò e ah no in exam row sì in exam row in row control ad un certo punto metterò delete exam uguale a qualcosa quindi perché io qui ho scritto props delete exam quindi se questa deve funzionare vuol dire che qui deve esserci scritto delete exam qualcosa ok? poi c'è scritto props exam quindi deve esserci anche scritto exam uguale a qualcosa poi che cosa ci penso dopo? mi sto facendo una costruzione nel senso che io ho pensato di strutturare i componenti in questa maniera ho l'albero in testa come ce l'ho sul disegno delle slide dove era il 4 questo qua se non ce l'ho in testa me lo disegno su carta e cerco di scrivere il codice corrispondente quindi salvo un attimo darà errore ma non mi interessa se lo dà ok quindi questo componente ha bisogno di queste due proprietà non ci vede niente altro no? l'altro componente di cosa ha bisogno? ha bisogno di exam name vedete che tra l'altro me lo suggerisce già e poi avrò bisogno di exam anche in questo caso no? ok? questi non sono oggetti vuoti per ora sono solo le grafe che mi aprono il contesto javascript dentro cui vandrò a mettere le variabili ok? bene ok quindi chi me le dà queste informazioni? sono informazioni che ha la row o informazioni che ho messo da un'altra parte? e beh devo sapere da dove mi arrivano allora questi sono componenti di sola visualizzazione perché io direi che non è ragionevole mantenere un'informazione dentro la row no? perché? perché nel momento in cui diciamo devo poi andare a fare delle operazioni sulle informazioni dei miei esami vorrei un punto un po' più centralizzato no? cioè se devo che so fare il conto di quanti quanti esami ci sono visualizzati piuttosto che devo andare a prendere tutti gli esami e che so aggiungerci uno perché mi alzo i voti piuttosto che andare a non so cambiare il codice piuttosto che adesso questi esempi sono un po' così no? andare a fare qualche operazione che so mettere in evidenziato tutti i voti superiore a 25 e così via io ho bisogno di un posto dove andare a gestire l'informazione cioè il dato indipendentemente dai controlli e il dato lo vorrei tenere in un array perché non averlo in un array per dei dati omogenei diventa un po' complicato io ce l'ho tra l'altro già in un array dunque dove l'abbiamo messo in apps beh non i fake data io ce l'ho già in un array anzi ce l'ho in due che è un po' più complicato però diciamo fondamentalmente è questo quello che voglio visualizzare sulla tabella poi vabbè devo aggiungerci il nome lo farò però quindi io ho questa informazione questa informazione è l'informazione che devo mettere da qualche parte e devo metterla in un componente dove abbia senso questa informazione ha senso darla o averla nel componente tabella giusto c'è qualcuno che avrebbe qualche altra idea se c'è qualcuno che ha qualche altra idea adesso mi è spattito salva schermo se c'è qualcuno che ha qualche altra idea può dircelo se no diciamo che non è che mi tengo il singolo esame nella singola riga glielo passo perché così l'exam row diventa un componente riutilizzabile per ogni esame io gli passo i dati dell'esame e lui se li visualizza quindi exam exams exam praticamente diciamo che glielo passo l'informazione come oggetto props exam e lui a sua volta la passa sotto no cioè questo props exam sarà qualcosa che diciamo in function exam table props qualcuno no return diciamo che facciamo return facciamo la table di bootstrap quindi diciamo table poi qualcuno mi metterà dentro un qualcosa che ad un certo punto lasciatemi mettere i puntini creerà exam row e mi darà exam uguale qualcosa dunque dunque exam row si cos'ha che non va perché non me lo chiude lui va va bene non so sarà perché perché ho scritto qui quattro puntini e non li digerisce in questo momento exam uguale diciamo che scrivo qualcosa così ok exam e qui da qualche parte dovrò prendere l'informazione dell'esame exam table o riceve la lista degli esami o ce l'ha e adesso ci ragioniamo sopra però volevo farvi vedere come costruire la catena delle proprietà e poi dunque si aspettava exam name exam name e devo anche qui darglielo e qui e qui devo un attimo pensare exam table e vabbè vedrò come come tirarla fuori ok quindi questa è exam row poi avrò un ah no scusate ok exam row quindi c'è exam name props exam ah ecco non avevo messo qui props props exam name adesso arriviamo alla domanda props exam name e il delete exam invece è più difficile perché devo un attimo capire come come passargli cosa passargli e dove andare a farla delete ok dunque perché l'utilizzo di table non dà errore se table non è stato importato dunque sì è vero e mi sa che perché non vorrei dire una cavolata però mi sa che perché no exam components non l'abbiamo ancora importato da nessuna parte onestamente non lo so non ci scommetterei però che che non di errore bisognerebbe provare a compilarlo solo che adesso abbiamo tutto per aria e non lo sappiamo vi rispondo eventualmente offline dopo mi guardo il problema sempre che sia un problema forse perché adesso magari react bootstrap fa qualche qualche pasticcio particolare per cui riesce a farlo vedere al visual studio code e e e quindi non ce lo segno però adesso non non vorrei bloccarmi su questa cosa perché il tempo corre e dobbiamo arrivare almeno a capire dove mettere fondamentalmente l'informazione e quindi lo stato e poi come gestire la cancellazione perché sarà una modifica dello stato no no non è che deve scusarsi ma diciamo che non avendo una risposta pronta non non saprei in questo istante allora dunque abbiamo la nostra exam table quindi abbiamo exam scusate exam row che ha usa props exam props exam name e poi userà userà vabbè qualcosa che detto exam diciamo props delito exam tanto portarlo non ci costa nulla intanto qui già diciamo anche in un progettino semplice semplice come questa cosa che alla fine è una tabellina una tabella abbiamo un po' di properties da portare da portarci dietro e da passare soprattutto se vogliamo fare essere modulari fare i componenti i sottocomponenti eccetera da riportare quindi questo sarà poi una cosa che ci porta al contesto dove cerchiamo di semplificare un po' il meccanismo di passaggio delle properties comunque qui per ora sono solo tre diciamo sono gestibili può essere perché non importando exam component questo non viene renderizzato e quindi non troverò potrebbe essere potrebbe essere adesso poi lo importiamo facciamo così exam table quindi export quindi esportiamo solo uno quindi dovremmo ci basta table dovrebbe sì no sì ho fatto exam table perché qui voleva fare una cosa diversa vabbè poi dobbiamo aggiustare come vogliamo importare quindi exam table diciamo che di là a questo punto togliamo tutto ah vabbè c'era c'era leather diciamo che non so se vogliamo fare ancora un componente per leather però non so farei lascerei perdere leather quindi consentitemi di tagliare un pochettino sullo schermo sbagliato quindi tendiamo via tutto quindi stiamo tagliando un pochettino e magari mi metto le due versioni quella un po' un po' più quindi ecco qui dobbiamo importarcelo sicuramente quindi facciamolo facciamolo qui import exam exam table from exam components ok exam table ecco ok ovviamente vabbè dobbiamo andare a sistemare un bel po' di cose ok quindi in exam components poi scopriremo se abbiamo bisogno di importare ok quindi allora dove è table stripe border come era prima però non fa niente dobbiamo decidere dove mettere l'informazione l'informazione è quel fake data no fake exams eccetera no io potrei fare fake exams e fare semplicemente così e lo faccio no quindi qui qui abbiamo il fake non è indispensabile come avete visto avere lo stesso nome però diciamo per non far pasticci magari usiamo lo stesso nome no e quindi diciamo che qui ci facciamo una property exams uguale e gli passiamo questa informazione se la manteniamo qui fake exams ok quindi abbiamo passato un array però ne passiamo uno poi passiamo anche l'altro adesso solo per far prima cominciamo con le cose un pezzo per volta a questo punto vuol dire che io qui in props mi ritrovo exams giusto di qua ho exams si mi ritrovo exams che però dunque dove è andato ok props exams no allora se io faccio così posso farmi map map e mi faccio la mia funzione che so x giusto per distinguerla vado a chiudere sotto quindi chiudo la callback anzi la map qui quindi la graffa la apriamo sopra e ritorno una lista di exam rows no ex ex è l'esame quindi io devo fare in exam ci metto ex si fatte exam name diciamo consentitemi per ora facciamo un attimo in fretta stringa vuota ecco delete exams delete exam delete exam appunto è la cosa più critica aggiungiamo ancora la key giusto per perché così ce la togliamo perché qui facciamo una lista e sapete che dobbiamo metterci la key diciamo che come key se abbiamo già una key dei dati usiamola se è una chiave unica abbiamo cos'era il course code se andiamo a vedere i dati c'era il course code che è una chiave unica perché ogni volta ognuno dà solo una volta un codice di esame quindi è una chiave unica va bene ok quindi ci siamo tolti il key fine delete exams delete exams deve essere quella che abbiamo visto prima sulle slide cioè la callback come qui dobbiamo crearce quindi è quella che andrà a fare l'operazione e modificare la lista degli esami facciamo solo l'operazione cancellazione e quindi prenderà l'array e deve cancellare una cosa dall'array quindi abbiamo qualcosa che si modifica cioè il nostro stato a questo punto dobbiamo decidere dove tenere lo stato lo stato dove ha senso tenerlo avevamo dato appunto un'indicazione di massima lo stato va messo sul primo elemento che è il padre di tutti quelli che ne hanno bisogno questa è la regola generale di base perché perché poi lo vediamo sotto lo possiamo passare come dati come props ai componenti solamente se i componenti sono figli del componente dove c'è lo stato perché se no non riusciamo a passare in giro al padre sulla base di questo ragionamento io quindi lo metto in nella tabella nel componente exam table ok quindi devo fare uno stato no perché perché ho bisogno dello stato perché se no ho fatto l'applicazione di prima se passo solo props cioè c'è il fake data con gli esami e nessuno li cambia se io li cambio però l'applicazione deve ricordarsene per ricordarsene ha bisogno lo stato se c'è uno stato devo decidere dove mettere lo metto nel posto comune a tutti quelli che ne hanno bisogno quindi const const exam exams set exams e mi raccomando abbiamo detto di usare la nomenclatura exams cioè il modo di scrivere le variabili le callback è sempre uguale use state e poi avremo un valore iniziale allora la use state adesso andrà importata facciamo incolla ok striped true sì probabilmente chissà perché non l'ho messo nell'esempio che sì ha ragione anche questo poi me lo indago tecnicamente sì forse forse il componente di mi sa che bootstrap ha inventato un po' di di cose diciamo che per facilitarci la vita però anche questa me la guardo adesso stavo prendendo dall'esempio che ha fatto il mio collega quindi non ho fatto tanto caso ad alcune cose ma giustamente voi appunto notate tutto e fate bene use state allora che valore iniziale gli diamo no allora se fossimo in un programma vero io metterei non così ma dov'è io metterei un array vuoto e poi qualcuno prima o poi mi caricherà dei dati dal server non siamo in un programma vero perché abbiamo i dati fake finti e quindi io lo stato iniziale lo carico e dalle variabili che ho me lo son fatto passare come props in un programma vero non mi arriverebbe come prop mi arriverebbe caricato dal server però ci mancano tutti gli elementi per fare questa operazione e allora ci metto exams che è un array che è quello che passo in app qui fake exams ok che adesso ho usato exams è il nome exams è props exams ok fine questo è lo stato iniziale vale solo all'inizio poi poi cosa c'è dipenderà da come ci lavoro sopra ok quindi se io mantengo lo stato a questo punto non voglio più usare la prop io uso lo stato ok mi raccomando questo passaggio è importante qui uso lo stato non più la prop la prop è solo una comodità è diventata una comodità perché non abbiamo modo di caricare dal server se avessimo modo appunto lo avrei inizializzato con un array vuoto e poi prima o poi si riempiva però abbiamo bisogno di altri hook e altre cose quindi non lo facciamo adesso exams che all'inizio quindi sono tutta quella lista ex ritorna exam row eccetera eccetera delete exam e delete exam è una callback che agisce cioè è un qualcosa una funzione che io passo ai componenti feed che agisce sullo stato e che deve farmi vedere qualcosa cioè no scusate che deve cambiare lo stato che quindi mi fa poi vedere lo stato aggiornato quindi questo qualcosa è lo stato aggiornato e devo scrivermela devo scrivermela e dovrà fare set exams e qualcosa però non farà solo set exams perché se facendo la delete dovrà essere una funzione un po' più complicata const come la chiamiamo sì delete exams gli informatici hanno poca fantasia lo sapete e e quindi chiamano tutto nella stessa maniera anche se poi finisce che ha un significato diverso però abituiamoci tanto allora cosa prende come parametro io cosa ho a disposizione nei controlli io avevo passato il curso code e quindi prenderà il curso code e poi e poi cosa faccio dunque io ho il il nuovo qui devo fare allora exams uguale no perché devo fare set exams perché dovrò andare a modificare lo stato e togliere quel codice corso quindi quell'elemento dell'array di exams a cui corrisponde il codice corso sempre che ci sia ok quindi set exams punto che cosa ci metto dentro allora lo stato nuovo è uno stato che conosco già sì lo scrivo nel senso che è un valore fisso lo scrivo eccetera questo è uno stato che dipende dallo stato precedente perché dipende dall'array precedente no quindi callback callback che prende no quindi funzione ah perché non funziona callback callback che prende lo stato precedente qui ha scritto ex così almeno lo distinguiamo un pochettino ex e su ex ci lavoro ex è un array voglio farmi restituire un array in cui c'è tutto tranne l'elemento a cui corrisponde il codice corso mi ricordate come si fa per questo che ci torna tanto comoda la programmazione funzionale no? col filter benissimo bravissimo filter che di nuovo prende una callback il filter già restituisce l'array quindi siamo a posto callback che prende l'elemento diciamo quello che ha chiamato ex l'elemento se ex punto course code è diverso da course code course code dunque dunque filter prende questa callback questa è la chiusura del filter ex ritorna un valore boolean però devo togliere le graffe se no devo scrivere return se posso usare le graffe non devo scrivere return quindi questa è una condizione boolean se è true quindi se è diverso me lo ritorna se è uguale non me lo ritorna non mi ritorna true quindi lo toglie dalla lista ok? quindi abbiamo scritto le exams e questa è la parte più interessante di tutto l'esercizio quindi bisogna imparare a scrivere questa cosa set dello stato con una callback stato precedente quindi questo è l'array che corrisponde allo stato precedente che io manipolo in questo caso con la filter che quindi mi ritorna un altro array uguale al precedente dove solo per le volte in cui la callback valuta true mi viene restituito l'elemento ok? adesso la delete exams e la delete exams la passo è una funzione questa è una funzione questa è una stringa questa è un oggetto e questa è un'altra stringa ok speriamo che ecco table is not defined oh abbiamo trovato il table is not defined per il vostro collega ok bravo allora era giusta la spiegazione che ha dato il vostro collega perché diciamo non era ancora incluso il call non ci interessa eh table is defined and never used questo in app vabbè perché abbiamo tolto un po' di roba lasciamo perdere no some warning poi se consegnate l'esame magari date un po' una ripulita se no non si capisce niente però diciamo queste sono solo roba che che non è utilizzata adesso andiamo a vedere se funziona eh quindi ricarico ho ricaricato vabbè è diventata un po' più grezza forse ecco c'era quel problema mi sa che qui il problema l'abbiamo creato e non risolto quando abbiamo scritto striped true evidentemente bootstrap react bootstrap funziona un po' diverso però diciamo sono dettagli nel senso che sicuramente non stiamo lì a no non è quello vabbè fa niente vediamo se funziona almeno la base visto che il tempo corre quindi allora componenti container row exam table che è il mio ha lo stato no che non c'è il nome della variabile ma almeno vediamo che c'è lo stato no ok c'è lo stato e poi su ognuno exam row c'è la sua key non c'è nessuno stato ci sono le properties tutte le volte passo l'exam ma solo l'exam corrispondente a quello che interessa a me no course code date vabbè questo è il js scores eccetera allora vediamo se funziona la cancellazione c'è qualcosa che non va va bene tipico non ci funziona tutto al primo colpo exams is undefined allora exams andiamo nel Visual Studio Code questo era exam component exams is undefined exams dovrebbe essere lì perché is undefined exam row exam row se qualcuno ha un'idea facciamo prima se no non riusciamo a finire la lezione allora props exams exams dunque la delete set exams exams ex ex filter ex ex course code course code che è il parametro forse una parentesi chiusa sfusa dopo exam row questa parentesi dovrebbe essere la parentesi della mappa ok ok allora ex se no ce lo debaghiamo perché dunque props exam course code alla delete exam non bisogna passare non bisogna passare all'identificativo del corso ha ragione ecco bravo ci manca il parametro no l'abbiamo passato delete exam è questo qua course code no questo qui questo props exam course code che deriva dalle props è quello che deve arrivare qua no alla scusa alla course code qui sempre macchinoso trovare gli errori allora use state no ecco eh no questa è una cosa un po' più difficile beh meno male che ci è capitato sa che e perché nel momento in cui dentro al callback di sette esame non bisogna fare return exfilter eh sì eh sì eh sì perché ho messo ho messo queste graffe e quindi dovevo fare il return ha ragione proviamo se non mettevo le graffe potevo farne a meno ma ho questa mania di mettere le graffe ok ovviamente possiamo solo cancellare e non possiamo fare niente altro e quindi se vogliamo riprovare ricarichiamo ok ci manca ancora da mettere a posto il course name dovremmo andarcelo a cercare facendoci passare come property eh in app no anche l'altro fake courses andarci a fare un po' di logica qui no e andarci a determinare l'exam name sulla base del dell'informazione che c'è in ex quindi dell'esame del course code andarci a cercare l'exam name magari con una filter con qualcosa però diciamo che questo è un dettaglio no ok quindi direi che fondamentalmente abbiamo visto quello che ci serviva a vedere quindi ci siamo solo sbagliati su questa cosa qua mi sono sbagliato anzi voi non c'entrate niente potremmo scriverla così tenendo le graffe bisogna che la forza di annidare col backs no non si capisce più niente poi a un certo punto però bisogna ricordarsi del vedete che sparisce poi dal dal dallo stato quindi exam table lo stato noi ne prendiamo uno questo è il 24 e lui sparisce se se avessimo una maniera di creare qualcosa di di creare un nuovo oggetto da mettere nell'array aumenterebbe solo che ovviamente se no stiamo qui tutto il giorno a fare conci però avete già una buona base di partenza io direi che vi completo un pochettino questo esempio quindi vi metto diciamo almeno il nome del corso e e poi ve lo metto online nella solita cartella week mi sembra siamo già alla 6 oramai quindi se qualcuno ha dei dubbi o delle domande volentieri rispondo perché non occorre mettere un return prima di 7 exams perché la 7 exams non ritorna niente 7 exams scrive dentro exams non ha niente da ritornare non non abbiamo non abbiamo da da prendere valori di ritorno probabilmente sta pure undefined ok la 7 exams e modifiche exams cioè quello che io passo come parametro se un valore ci va direttamente dentro se una callback verrà chiamata e il valore di ritorno della callback va a finire dentro exams punto ok grazie ottima domanda perché in effetti poi a qualcuno giustamente viene il dubbio ma andrà a buon fine ma funzionerà e se non funziona avete sbagliato scrivere il codice react non ci può fare niente deve funzionare prima o poi react esegue la callback e il valore di ritorno prende e lo mette in esame se poi non è quello che vi aspettate avete sbagliato a programmare e vabbè verrà fuori un errore però è un errore di programmazione non è un problema di esecuzione non non fallisce mai la set dello stato ok direi che abbiamo visto tutto quindi se non avete ulteriori domande comunque potete fare sempre su slack vi invito a farlo su discussion perché così lo leggono anche i vostri colleghi non privatamente ma più che altro appunto perché così magari il dubbio di uno può essere il dubbio di qualcun altro e si risolve facilmente ok allora aggiusto l'esempio e ve lo metto online ok c'è ancora qualcuno che sta digitando quindi aspetto un secondo e se no appunto ci vediamo poi la prossima volta la prossima volta che è lunedì prossimo avrete in laboratorio da fare qualcosina diciamo di simile quindi di creare i componenti far passare le props e poi adesso non ricordo se c'è già un minimo di stato o no però sì forse sì c'è uno stato in cui non c'è ancora da modificare nulla quindi qui abbiamo già usato l'asset state potete diciamo prendere e fare il minimo cioè appunto il fake data potrebbero essere i fake tasks e farli arrivare come props questo sicuramente eventualmente metterli dentro uno stato ma se poi e poi nel terzo nel laboratorio C che c'è da modificare sulla base dei filtri quindi ancora dopo ok direi che non vedo altre domande in questo momento quindi vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande comunque ah ecco se non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali sull'eventuale ritorno in presenza nell'orale lezione la prossima settimana compaiono già le aule fisiche sa se il laboratorio l'unidio potrà essere fatto in presenza e purtroppo non lo so e vi aggiorno su Slack direi se non si può faremo sparire la possibilità almeno spero che il politico faccia sparire la possibilità di prenotarsi per la presenza comunque chiedo e temo che di questi tempi con tutta questa incertezza che c'è si avrà una risposta nel fine settimana quindi una risposta certa intendo al momento non abbiamo indicazioni circola la voce che sembra di no però non abbiamo delle indicazioni certe mi spiace e comunque adesso chiedo anche ai colleghi se sanno qualcosa di più e sperabilmente il rettore ci dirà qualcosa a tutti entro il fine settimana ok comunque ve lo dico su Slack grazie a tutti e ci ci vediamo quindi lunedì nel laboratorio ok 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 Grazie.